Un mese e questo è il lasso di tempo che sindacati e proprietà si sono dati per valutare possibili soluzioni alternative, cioè la cassa integrazione, rispetto al licenziamento di 30 lavoratori della Libarton di Ortona. La multinazionale americana sta subendo la contrazione del mercato degli idrocarburi per cui ha deciso di ridurre la pianta organica della sede in provincia di Chieti, che non più tardi dello scorso anno aveva subito una sforbiciata di 60 addetti. Il taglio dunque sarebbe di circa il 30% delle risorse umane perché nella sede di Ortona attualmente lavorano 104 persone, oggi fortemente preoccupate per la decisione del board americano, che è arrivata in Italia come un fulmine a cercereno e che potrebbe preludere alla chiusura definitiva. Questa mattina nella sede di Confindustria a Pescara rappresentanti dei lavoratori e dell'azienda si sono incontrati per una prima riunione tecnica, come spiega Carlo Petaccia della Filtem CGL. Siete aggiornati al 6 settembre, la vostra richiesta è quella di una misura alternativa ai 30 licenziamenti che è la Cassa Integrazione. È un'azienda che non ha mai utilizzato strumenti come la Cassa Integrazione perché nella loro logica quando le cose non vanno devono essere solo utili i licenziamenti. Credo che adesso anche la crisi del settore che obiettivamente c'è, noi chiediamo che ci sia una diversa impostazione e quindi abbiamo chiesto esplicitamente di non licenziare. Aspetteremo il 6 per capire se questa società voglia veramente lasciare o meno. Stiamo chiedendo solamente di prendere un attimo, un anno di tempo prima di licenziare. La storia in parte ci dà ragione perché per esempio possono succedere come cose come sono successe da Becker Hughes che dopo la fallita fusione con Alliburton sono stati acquistati dalla General Electric. Sindacato e lavoratori dopo il 6 di settembre si riservano di valutare eventuali azioni di sciopero. Dopo quella data il tavolo comunque diventerà istituzionale coinvolgendo Regione e Ministero delle Attività Produttive.